L'Ikea più vicino è quello di Padova, così ci arriviamo alle 11 del mattino in ora di punta. Eppure il parcheggio è quasi deserto. Una volta entrati ci muoviamo liberamente tra i corridoi vuoti. I commessi sono docili come schiavi egizi. Sono disposti a tutto pur di vendere qualcosa. Forse anche loro temono licenziamento. Forse anche loro aspettano un bambino. Compriamo solo roba di legno non verniciato per evitare colle sintetiche e formaldeide. In questo momento rimpiango i miei vecchi mobili. Se contenevano sostanze nocive adesso sarebbero sicuramente evaporate. Mentre lei manneggia gli oggetti o apre le ante dei mobili la guardo. ha gli occhi qui ma la testa da un'altra parte. Ha un modo silenzioso e discreto di muoversi e fare poposte che mi stupisce ogni volta. È bellissima ma non so quanto c'entri la sua gravidanza. Ma essere qui e fare questa cosa è un fatto sorprendente. Come sorprendente conoscere il nuovo significato della parola attesa. Riempiamo il nostro carrello e arriviamo le casse. Dal momento in cui giriamo l'angolo dell'ultima corsia tutte le cassere cominciano a fissarci. Non sappiamo quale scegliere. Ci dirigiamo non sopra che proprio verso quella che era di spalle. Il giorno dopo è domenica ma i negozi sono aperti perché fra cinque giorni è Natale. Dobbiamo prendere altre cose quindi andiamo in un centro commerciale. Il parcheggio è pieno ma la gente è tutta nei corridoi. Passeggia o beve il caffè. Alcuni entrano nei negozi sollevano la merce. Guardano la faccia dei commessi e la rimettono giù. Forse godono vedere che adesso soffrono anche loro. La gente sembra formiche impazzite che corrono nel formicaio a mani vuote. Forse questa non è una crisi è una terribile punizione. Il problema è che essere puniti sono sempre più poveri. I commessi, gli stentati compratori, quelli che nei centri commerciali non ci possono nemmeno andare. E non sono pochi. I giornali dicono che i 300.000 contratti di lavoro precario che scadranno in Italia a fine anno non saranno rinnovati. E io sto cercando un piumino d'oca 120 per 70. Alla fine non compriamo nulla perché non troviamo quello che cercavamo o perché eravamo troppo stanchi. Spostiamo l'auto e andiamo in un negozio a qualche chilometro da lì. Un posto che vende tutto per l'infanzia. Dai di Beron ai passeggini, dal latte in polvere ai pannolini. Da qualsiasi parte andiamo, esibisco la gravidanza di Lucrezia come se fosse una mia scoperta o come se il pancione l'avessi io. Più si ingrossa il pancione più demone mi sento. Lei se ne accorge ogni giorno di più e mi dà del teatrante, dell'esaltato. Le tue sono emozioni di nicchia, le dico. Le tue sono un film di Chuck Norris, mi risponde. Quando entriamo nei due i commessi si guardano. Il negozio è semivuoto e loro sono appoggiati al bancone o conversano tra gli scappali piedi. La crisi non può aver provocato anche la riduzione delle nascite. Eppure sono vuoti anche i negozi per prima manna. Dopo un po' che giriamo mi sento a disagio. Una ragazza mette la tappezzeria a un passeggino. Un'altra sta applicando sugli scaffali la scritta sconto 25%. Gli stessi cartelli compaiono e molte altre corsie. Un magazziniere apre delle scatole di cartone da cui estrae confezioni di crema per i sederini arrossati. La cassiera legge il rotolo del registratore di cassa e scrive qualcosa su un foglio. Forse sta anticipando le operazioni di chiusura. Quello che sembra il direttore del negozio ci segue a distanza facendo finta di controllare dei flaconi. Vuole essere a meno di tre metri da noi quando avremo bisogno di aiuto. Arrivati alla cassa la ragazza ci propone una tessera su cui si accumulano punti originati dall'acquisto di certi prodotti che poi danno diritto a questi scontati per un'altra categoria di articoli. Capire come funziona è più difficile che fare una dichiarazione dei redditi. La incrocio le dita e Lucrezia dice facciamola prossima volta. Usciamo. Carico il baule. Ci mettiamo in macchina. Aiuto Lucrezia ad allacciare le cinture. Lei mi sorride. Mi avvicino per avere un bacio. Metto in moto e usciamo dal parcheggio vuoto. Rallento prima dei dossi per evitare scossoni al pancione. Ci mettiamo su una strada su cui qualche mese fa ci sarebbe stato un ingorgo. Andiamo verso casa.